Il super bonus arriva anche in quel di Prato, la Peligna. Sono iniziati il 10 dicembre scorso i lavori di efficienza energetica, miglioramento sismico finalizzati all'ottenimento dei benefici fiscali di cui al decreto legge 34 del 2020, il super bonus 110 in una unità immobiliare indipendente sita nel centro storico della cittadina Peligna. È uno dei primi cantieri ad aprire in tutta la regione dopo però l'effettiva pubblicazione in gazzetta ufficiale della relativa norma attuativa. Abbiamo scelto una nostra abitazione per iniziare, trasformandola in un laboratorio sperimentale affinché potessimo valutare tutti i possibili attriti burocratici nascosti dietro l'iter procedurale, che sono tantissimi, spiega l'architetto Antonello Pace. I tempi sono stati relativamente corti, quattro settimane per la progettazione, due settimane per l'approvazione della corposa documentazione preliminare, quattro settimane ancora per l'ottenimento del finanziamento ponte da parte di un istituto di credito. Alla fine, dopo un'attività sinergica dei vari attori intervenuti, il cantiere è stato avviato prima delle feste natalizie. Ne approfittiamo per dare un contributo ai cittadini che sono intenzionati a intraprendere questa strada, continua l'architetto, ricordando che il bonus 110 è un'opportunità di ripresa che non possiamo perdere. È vero, ma non a tutti i costi. Innanzitutto bisogna credere in prima persona, fermamente, sul reale beneficio che un intervento del genere potrebbe apportare alle nostre città, soprattutto le nostre case, sia in termini tecnici che in termini di una potenziale ritrovata identità architettonica che in molti casi non è mai pervenuta. Diffidate da chi propone progetti faraonici a costo zero, come anticipato prima, l'iter burocratico per ottenere benefici è complesso e articolato, finalizzato a intervenire solo in alcune sfere dell'organismo edilizio. Affidatevi sin da subito a professionisti che hanno ben chiaro il prospetto normativo in vigore e che sappiano consigliarvi il più giusto intervento per il vostro immobile, che non per forza debba massimizzare i tetti di spesa messi a disposizione dalla legge. L'obiettivo deve essere migliorare i nostri immobili, quindi il nostro comfort all'interno di essi e non consumare i fondi statali. Conclude Pace. Grazie. Grazie.